Trasformare edifici utilizzati a scopo residenziale, direzionale o commerciale in alberghi, residenze o luoghi destinati a servizi per il turismo. Nei centri storici dei comuni lucani si potrà fare senza lungaggini burocratiche. Grazie a una norma approvata dal Consiglio regionale nel disegno di legge collegato alla legge di stabilità regionale per il 2016, sarà possibile il mutamento di destinazione d'uso senza ricorrere alle procedure di variante e agli strumenti urbanistici vigenti. I comuni avranno 120 giorni di tempo per individuare gli immobili che saranno esclusi da tale possibilità. L'Assemblea ha approvato anche un'altra norma per promuovere il turismo in vista di Matera 2019. I gestori dei lidi balneari non saranno costretti a smontare le strutture mobili e potranno così allungare la stagione balneare. Le autorizzazioni per le opere temporanee e stagionali, come chioschi e lidi balneari, così come proposto dal consigliere polese, potranno essere reiterate per cinque anni.